Manners è un documento che nasce dall'esigenza di creare delle azioni, dei punti per tutti gli operatori in modo che si crei una etichetta che tutti questi partecipanti del routing globale dovrebbero in teoria ascoltare o dovrebbero comunque commettere delle azioni da compiere. Quindi si parla di configurazioni da applicare ai propri router, si parla di mantenere i propri contatti sempre aggiornati nei vari punti di contatto come il Ripe Database, come PeeringDB, come l'Internet Routing Registry con oggetti che si chiamano Root, Root 6 Object. Tutto questo dovrebbe come fine ultimo concorrere ad avere una Internet con una migliore resa, significa avere un routing più sicuro dove molti tipi di attacchi, molte tipologie di attacchi sarebbero molto più difficili da compiere e richiederebbero molta più capacità da parte degli attaccanti. La risposta per ora non è tanto forte, ci sono molti grossi operatori che hanno aderito, però questi rappresentano una percentuale molto bassa del numero di autonomous system che poi effettivamente hanno implementato queste regole. Quindi l'obiettivo di andare a parlare di manners a diversi operatori, a diversi meeting è quello di fare in modo che un numero sempre più maggiore, sempre maggiore di questi soggetti poi implementino manners, implementino tutte le azioni che vengono raccomandate.